Un'operazione al femore eseguita in ospedale a Feltre che sembrava perfettamente riuscita per Samantha è stata l'inizio della fine. La degenza post-operatoria l'ha portata a un secondo ricovero, a collassamento di polmoni, a un coma vegetativo in cui giace, dallo scorso dicembre, nel Santa Maria del Prato, dopo un inutile tentativo di salvarla in un reparto specializzato di Treviso. La mamma, che ogni mattina si siede accanto al suo letto per un'ora a guardarla, parla così. Lei è certa che sua figlia non avrebbe voluto quello che le sta accadendo? Sì, con grandissima certezza che una mamma possa dire questo non può essere una falsità, perché mia figlia io l'avrei voluta a casa, ma è anche vero che mia figlia è sempre stata una persona indipendente. La famiglia tutta vorrebbe che Samantha fosse lasciata andare, così come fu per Eluana Inglaro, ma anche in questo caso il comitato etico dell'azienda sanitaria si oppone. Il calvario che fu per la ragazza fiulana e la sua famiglia sembra doversi drammaticamente ripetere in maniera speculare. Se lei fosse al posto di sua figlia, cosa vorrebbe che facessero gli altri suoi figli? Nei panni di mia figlia? Lasciatemi andare. Lasciatemi andare, io l'ho già detto. Lasciatemi andare, non ha senso. E una mamma che si trova nella sua situazione, che si trova di fronte a chi questo lasciare andare non lo permette, cosa dice? Che non permettono del fine vita, io trovo che, l'ho detto anche al giudice, è disumano.